Hanno raccontato la storia delle migrazioni attraverso un libro soffermandosi su un concetto fondamentale, il valore della famiglia, che viene a mancare al momento della partenza di uno dei componenti. Un lavoro importante che è stato presentato ad Hartford, Stati Uniti, dove risiedono gran parte degli emigrati pratolani. A varcare i confini internazionali, i quattro studenti, i tre docenti del liceo Gian Battista Vico di Sulmona, che si sono dedicati al progetto. Quinte classi dell'indirizzo Scienze Umane. Il libro, ha spiegato una delle studentesse, Laria Menchinelli, racconta l'immigrazione soffermandosi su un concetto e il valore di famiglia che veniva a mancare quando un componente o più componenti partivano. Il lavoro è stato presentato con una raccolta di foto e lettere che i familiari si scrivevano tra loro. Un bel lavoro di antropologia e sociologia. Un'iniziativa svolta con grande entusiasmo da quanti ci hanno lavorato e che hanno voluto mettere in risalto l'Abruzzo, regione di emigranti in tutto il mondo.